ecco di buongiorno 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 siamo andati a mangiare la pizza ieri sera tutti tutti i giorni tutte le volte che abbiamo fatto un po di tempo perché dove sei che era tutto il nostro partner della campania lo diciamo perché così almeno abbiamo anche la posizione mentre roberto era un partner della sardegna e ti lascio anche a te la parola per cinque minuti sono pochi minuti allora innanzitutto vi saluto tutti ed effettivamente come detto da simone non è un voi presa abbastanza diciamo particolare smart perché eravamo abituati a vederci da vicino e a condividere questi momenti e nulla quindi è un volto di smart via web niente vado più velocemente perché da parte mia in questo periodo quello che ho notato non è stato diciamo relativo ad un solo cliente ma è qualcosa di più generalizzato paradossalmente abbiamo ricevuto e ho ricevuto tante richieste di assistenza ehm e di consulenza ma non solo tecnica anche commerciale questo per diciamo aiutare i clienti a lavorare eh da remoto eh perché molto spesso sia i clienti finali che gli installatori eh in questo periodo di emergenza e presi dal panico e con lo sviluppo dello smart working ognuno cercava di di chiedere o di affacciarsi a soluzioni di smart working magari eh anche in maniera autonoma ehm come diceva diciamo il partner precedente e sicuramente c'erano dei clienti che erano parzialmente preparati ad affrontare o già diciamo attrezzati ad affrontare questo perché magari già avevano delle connettività ehm evolute in fibra e delle piattaforme pbx eh che potevano comunque eh essere implementate eh per lo smart working altri eh meno dove eh diciamo c'è stato un lavoro un attimino più certosino per individuare delle connettività performanti e magari spostare in cloud quelle che erano le piattaforme ehm di lavoro che eh erano all'interno diciamo dell'azienda cliente eh per qualcuno abbiamo attivato qualche qualche voip sim eh diciamo il restante dei clienti ehm qualcuno era già diciamo ehm organizzato con connettività performanti eh altri meno ehm ma comunque in qualche modo abbiamo dato la possibilità e ci tengo a dirlo con le connettività eh che sono ottimizzate per questi servizi e con il voip che è flessibile quindi in qualsiasi maniera con deviazioni di chiamata anche per i clienti che eh diciamo erano ancora in analogico e non potevano cambiare comunque con le soluzioni voip voice e soluzioni eh pbx eh che utilizziamo nel mio caso 3cx abbiamo dato la possibilità a tutti i clienti di lavorare da remoto di fare web meeting quindi conferenze didattiche addirittura che una scuola di danza abbiamo dato la possibilità di fare i corsi di danza eh diciamo online e di rispondere al telefono eh anche da remoto quindi da casa con l'app sul cellulare o con diciamo la parte web RTC ehm chiudo diciamo con un con un pensiero che poi alla fine è stato diciamo quello che ho notato in questo periodo di emergenza secondo me bisogna in qualche modo rivalutare l'approccio e diciamo il metodo di lavoro ehm anche da parte nostra eh educando i clienti a lavorare di più eh in modalità smart eh ma anche stando vicino al cliente per consigliarli soluzioni che siano efficaci eh a marzo prima della fine di marzo un mio cliente mi ha chiamato dicendo che chiudeva e non pagava più le fatture ehm poteva diciamo in qualche modo rivalutare la sua la sua attività e ce l'abbiamo fatta eh era un cliente diciamo che produce abbigliamento eh quindi eh ho cercato di in qualche modo di eh di fare un accordo per adeguare quelli che erano i canoni ma non solo della fonia anche di altri servizi ma eh con idee voglio dire da entrambe le parti ho detto pure magari di valuta di continuare a lavorare magari cucendo mascherine perché tu voglio dire hai le cucitrici fai questo di dimestire perché chiudi alcuni clienti ci hanno chiamato spaventati dicendo eh dobbiamo chiudere un periodo di resistenza dobbiamo abbattere tutti i canoni e quant'altro e a volte bruscamente gli ho detto ma devi chiudere l'attività o pensi di andare avanti perché purtroppo in questo periodo più che altro c'è anche un un problema psicologico eh di diciamo tutti i clienti tutte le attività sono danneggiate quindi eh diciamo gli imprenditori hanno anche un problema di questo tipo diciamo psicologico eh pensando che le cose vadano male che non si riesca più a recuperare quindi bisogna essere più ottimisti e dare una mano ai clienti stando vicini ripeto sia anche essere incisivi magari sul fatto per poter supportare e ascoltare in questo momento di esattamente diciamo il nostro compito è questo gli strumenti ce l'abbiamo e quindi penso che dobbiamo farcene anche un po' carico no di trasmettere quella che è tutta la parte di cultura digitale mi devo bloccare grazie intanto ci sentiamo più tardi